Pace bene a tutti voi, fratelli e sorelle. Credo che è il momento culminante di questa veglia, di questo momento di preghiera che è cominciato da un po' di tempo e che ci ha fatto preparare, ha fatto preparare il nostro cuore a celebrare il ricordo del transito di Padre Pio. Tra poco inizieremo la celebrazione eucaristica e vogliamo concludere il novenario in onore di San Pio, proprio preparare il nostro cuore a incontrare il Signore che viene in mezzo a noi. Siamo stati invitati proprio all'inizio di questo momento di preghiera di ricordarci che le cose più importanti che noi dobbiamo vivere in questo nostro cammino terreno sono appunto le virtù che noi diciamo teologali, cioè le virtù che riguardano il nostro rapporto con il Signore. E proprio prima che una persona fosse proclamata beata o santa c'è proprio questo giudizio, se vogliamo. C'è un vero tribunale che considera e vede come sono state vissute queste virtù in questa persona e devono essere vissute, si dice, in modo eroico. Lo ricordiamo sempre che ogni battezzato, ognuno di noi, deve avere quest'impegno durante il proprio cammino terreno di vivere soprattutto nella fede nel Signore Gesù. Senza la fede nel Signore, ce lo ricorda Paolo, noi non ci servirebbe a nulla tutto il resto. E però anche questa sera abbiamo sentito che, al di là di tutto, quello che è più importante è la carità. E tra la fede e la carità c'è la speranza. La speranza che possiamo sempre avere, o meglio, se vogliamo crescere nella fede e nella carità, dobbiamo avere la speranza che poi a un certo punto diventa certezza. Diventa certezza di che cosa? Dell'amore di Dio. Noi viviamo nella fede e viviamo nella carità proprio perché abbiamo la certezza che Dio ci ama. Penso l'esperienza di Padre Pio è stata proprio questa, che nel suo cuore c'era questa certezza che Dio lo amava, come in tutti gli altri santi, perché i santi sono coloro che si aprono completamente alla presenza di Dio, a questa vicinanza di Dio, accolgono nel proprio cuore i bene grande e immenso che Dio vuole comunicare e allora crescono nelle virtù. In questo impegno quotidiano, in questo impegno che li porta piano piano a identificarsi, ad assimilarsi a Dio, a diventare come Dio, pieni di fede in Lui, di speranza di una vita nuova, ma soprattutto pieni di carità. E io mi auguro che tutti quanti noi che viviamo questo momento di preghiera abbiamo questa forza nel cuore della fede nel Signore, abbiamo questa certezza che Lui ci ama e soprattutto l'impegno di vivere la carità. La carità, ce lo ricordiamo, non è quel gesto che possiamo avere o fare verso qualcuno che vediamo nel bisogno. La carità, ce lo ricordiamo, è la vita di Dio, è la presenza Sua nella nostra vita. E per questo Paolo ce l'ha ricordato che noi potremmo fare i miracoli, potremmo donare anche il nostro corpo, ma senza questa presenza di Dio non servirebbe a nulla. E allora, ecco, questa sera vogliamo chiedere a Padre Pio, proprio in conclusione di questo momento del novenario che noi abbiamo fatto in queste sere. Vogliamo chiedere a Lui che ci aiuti, soprattutto ad aprire il nostro cuore all'amore di Dio e ad essere pieni di questo amore, come lo è stato Lui. Certamente ognuno di noi ha le sue possibilità, ma apriamo anche il nostro piccolo cuore a ricevere la grandezza e l'amore di Dio e poi soprattutto a vivere questo amore in rapporto ai fratelli. Credo che questo è l'insegnamento di Padre Pio e questo vogliamo portare come figli devoti, come figli spirituali, come coloro che lo hanno, gli vogliono bene, che lo guardano come modello di vita e che lo vogliono imitare. Amen.